che mi devi far venire l'ansia vaffanculo mo torno spero che non va nessun altro aiuto invade invade anche se siamo tutti l'afco invade madonna ma comunque mi hai fatto prendere un infarto mi hai fatto pian colpo mortacci tua io perchè? no tu che cazzo ti stai a mangiare il pugno intero ti sei messo un pugno intero in bocca ti sei messo che cazzo è questa roba? la kinder fraccioni ma so che non ne è quella stessa si sono andato a chiudere la porta di casa a chiave ho fatto un fartato perchè tipo ho realizzato cazzo perchè c'è la porta aperta e ho detto poi c'era tutto quel buio ho visto tutto quel nero ci mancava che ci stava uno che mi guardava veramente da dietro altro che film horror